Allora, eccoci qua, Consato, a voi cosa risulta? Perché le imprese che accettano di andare in trasferta o sondare nuovi mercati, poi adesso abbiamo anche il discorso dell'Iran, vedremo fin quanto questo funziona, perché poi entrerà in gioco quel che è successo il discorso di Schengen per maggiore sicurezza e quanto questo può bloccare. Che cosa vi risulta? Lo fanno perché sono con l'acqua alla gola, sono imprese che vanno bene oppure effettivamente non... No, allora diciamo il campione sul quale noi operiamo da anni, come diceva prima Davide, è un campione, passatemi il termine, privilegiato nel senso che opera con l'estero e quindi l'estero per fortuna per il momento ancora si salva. Io su questo però vorrei così condividere con voi una riflessione. Cioè l'estero non è la panacea, è la soluzione di tutti i problemi. Cioè io prima ascoltavo con attenzione i numeri, poi sui numeri sapete vanno letti, vanno interpretati, quindi potremmo magari fare otto trasmissioni per alla fine arrivare con otto versioni sui stessi numeri oggettivi. Ma vengono diffusi quotidianamente sui giornali? L'imprenditore alla fine i numeri lo condiziona anche psicologicamente? Io gli darei una lettura, non so se questa è condivisa. Il rischio in Italia è che noi sui numeri, ne siamo anche testimoni noi, assumiamo atteggiamenti. Mi spiego meglio. Quando noi diciamo che l'inflazione, prima giustamente il condottore parlava di deflazione, facciamo il ragionamento contrario. Oppure anche con la deflazione. Facciamo passare il messaggio che siamo in deflazione. Vedrete che tutti i consumatori assumeranno un comportamento tale che concorre ad arrivare alla vera deflazione. Questo è il rischio. Quando noi parliamo di inflazione percepita e agiamo sui comportamenti, poi noi, esseri umani, assumiamo comportamenti che concorrono a raggiungere quell'obiettivo. A questo punto l'espressione... Quindi la comunicazione è... Un po' berlusconiano questo. Si ricorda quando Berlusconi diceva che dobbiamo essere positivi e propositivi. Benarenzi sta facendo questo. No, no, ma dicevi che non è mica un'offesa. No, 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 non l'ho intesa come una, diciamo, una contraposizione a quello che diceva. No, no, anzi io vengo con lei. Io su questo, esatto, io ne sono profondamente convinto. Perché quando parliamo con la gente, facciamo un'altra domanda che sento spesso. Come vanno le cose? Io sono tornato l'altra sera da Dubai e da Doha. voi sapete che lì la metropolitana di Doha è stata vinta da una vita italiana e sono stati i primi a finire lo scavo a Doha peraltro ci sono i campionati mondiali e a Dubai abbiamo l'Expo 2020 dove peraltro noi inviteremo a Padova alcuni rappresentanti dell'Expo se voi parlate con le imprese, ed erano imprese padovane che sono venute con noi, lì cosa è che si respira? si respira positività, possibilità, però attenti, competitività sono finiti i tempi che i nostri imprese, basta andare all'estero quando a Dubai, non tanti anni fa, ma 15 anni fa bastava arrivare col Made in Italy, margini del 50% si vendeva a prescindere quei tempi sono finiti, lo hanno capito anche i nostri imprenditori bisogna essere strutturati come rivolgo alla piccola e media impresa anche qua bisogna avere l'onestà culturale di dire che non tutti possono fare estero e adesso mi rivolgo anche a Cesaro che fa spedizioni internazionali beh lo sa, anche qui bisogna stare attenti perché a delle illusioni poi corrispondono delle illusioni ci saranno degli imprenditori idoni al mercato interno e sarà la loro fortuna o sfortuna e ci saranno altri imprenditori invece che potranno agire sul mercato estero ma sul mercato estero però bisogna avere dimensione, capacità finanziaria e gestione del risorso umano su questo però vorrei spendere una parola a favore della piccola... però non è questa la nostra realtà nella età quella che dice lei la realtà è fatta di altri tipi di imprenditori allora io vi do il dato beh diciamo io sono stato chiamato per parlare dell'estero no no ma detto così sembrerebbe che fossero... se no se volete parlo anche di banche magari potrei... io non potrei parlare anche di calcio cioè voglio dire facciamo i numeri però su questo permetto un numero non è il mio lavoro ma visto che è così vado indietro negli anni 0,8% di incremento del PIL detto prima da senato questo è un dato assodato penso beh andiamo su un paese che noi diciamo essere molto migliore di noi l'Austria più 0,6% e la Spagna... sì però bisognerebbe vedere Spagna 3% bisognerebbe anche vedere dal 2011 in poi l'Austria no no sono d'accordo come... però bisogna cominciare ad avere questa capacità di lettura un po' più generale perché allora vediamo che al 0,8% nostro corrisponde un 0,6% austriaco e guardate ve lo dico perché sono reale che ci danno incontro con i rappresentanti dell'Austria ci stamattina preoccupati mi sembrava di sentire quello che diciamo noi adesso sul futuro su come ci siamo ecco ma lei cosa intende dire quindi? cosa intende dire questo ragionamento? ah io una cosa che ho detto 8 anni fa e così mi fa piacere ripeto e forse non so se l'ho detta anche qua uno se ci registriamo tutti noi e se andiamo a prendere le interviste da anni fa di tutti di cosa si diceva rispetto alla crisi se vi ricordate 2008 qualcuno affermava fra sei mesi usciremo dal tunnel vi ricordate? dopo un anno primi segnali della ripresa 2008 2009 basta fare la rassegna stampa e se li beccate vedete non voglio fare i nomi perché li sono presi in ufficio tutte le dichiarazioni così io dicevo allora e ne sono convinto e purtroppo no purtroppo è un fatto i cicli in economia ci sono persone e poi a livello di studi mediamente hanno cicli che sono sui 10 anni sì però non a questi livelli è gonzato noi veramente stiamo subendo una crisi che non ha non ha precedenti no no ma difatti non è che stiamo parlando del 94 ma è l'Italia è l'Italia è l'Italia però stiamo veramente stiamo raschiando il fondo se mi consente no no io le consente tutto che termino diciamo il ragionamento sì i cicli sono decennali una cosa è brutto dirla ma voglio dire noi dobbiamo anche essere attori in positivo il sistema industriale veneto del 2008 e quando noi ci rivedremo nel 2017 o 18 non sarà uguale a quello del 2008 se poi noi vogliamo pensare o pretendere che al fine di questo ciclo il sistema industriale veneto sarà uguale a quello dal quale siamo partiti questo è un pensiero personale penso che sbagliamo e vi cito l'esempio quando si parla di digitalizzazione l'impatto della digitalizzazione non è ancora stato percepito fino in fondo io spesso negli incontri vado a dire noi dobbiamo ibridizzare il nostro manifatturiero attenti perché l'errore che io ho sentito spesso in tanti discorsi che il digitale viene considerato quasi un cloud messo lì nel cosmo come non avesse cointeressenza e ibridizzazione con il manifatturiero e lì probabilmente i cinesi già ci stanno insegnando come fare con le stampanti 3D e quant'altro allora se questo processo di cambiamento è in corso noi lo dobbiamo più che subire governare e questo è il ruolo che devono avere i sistemi potrebbe essere questa una delle cause che non c'è l'aumento dell'occupazione per esempio perché le imprese si sono organizzate c'è un problema dell'occupazione perché c'è questo cambio e c'è un problema di formazione perché noi dobbiamo creare delle figure professionali nuove voglio dire una componente fondamentale del fatto che la disoccupazione ci stia ormai sommergendo è che io faccio l'imprenditore ho molti dipendenti ma come è sposato ma se la gente non va più in pensione è ovvio che io non posso assumere gente giovane ragazzi non sarà un ragionamento da statista o da economista ma se io ho gente che immagazzino ha 66 anni e va via col muletto scusatemi molto prosaicamente va in giro col muletto ha 66 anni e ho messo una inserzione due settimane fa in 26 ore ho ricevuto 163 curricula e cercavo una persona laureata 163 curricula in 26 ore ecco e ho assunto una sola persona io vorrei assumerli tutti ma non posso ma è questo il problema noi nel Veneto e penso che siamo non tutti ma un po' il Veneto lo conosciamo io mi ricordo una volta lei si ricorda con Zatto anche lei non è giovanissimo come me c'era quando venivano quelli della SIP dell'Enel si rifacevano le buche andavano dentro a lavorare e c'erano i vecchiotti che guardavano e fumavano la sigaretta si è invertito adesso ci sono i vecchiotti dentro la buca e i giovani che stanno a guardarli guardi che sembra una battuta ma è una realtà se quella siamo in tv quella signora lì che piangeva come la Mogherini oggi dopo la strage e la Fornero più o meno siamo a quei livelli piangeva perché ha dovuto fare quella riforma non lei ma le banche la banca centrale Draghi Trisce l'han fatta ma è lì che è la madre di tutti i mali se tu non mandi a casa la gente che è da 40 anni che lavora come fai ad assumere gente giovane sposato com'è che facciamo ma com'è che facciamo con un'economia stagnante non c'è ripresa 0,8 con 300 miliardi di debito pubblico dovranno avere più 80% non 0,8 è ovvio che non assumo nessuno come faccio a assumerli io cioè prendo persone mi danno il come si chiama il Jobs Act quando c'è il contratto di apprendistato del 1958 che vale 3 Jobs Act ma non importa ma chi assumo io se non c'è lavoro chi è che assumo io col Jobs Act con 8 mila euro di benefit annuali l'anno scorso adesso non ho assunto nessuno col Jobs Act io per principio proprio ma chi è che assumo se non c'è lavoro cosa gli faccio fare a questa gente qua ma anche se viene qui quel ragazzo lì come si chiama Renzi e mi dice non paghi i contributi paghi metà dello stipendio ma cosa gli faccio fare se non c'è lavoro se non mi serve sposato dai così lo sai benissimo questa è la realtà tutto il resto sono belle cose però infatti a voi risulta questo sostanzialmente c'è un loop da quel punto di vista beh c'è un loop cioè le imprese non crescono se non c'è movimento cosa vuol dire loop che io non capisco vabbè no giuro non lo so allora il fatto che l'occupazione cioè qui stiamo a discutere se è cresciuto dello 0,8 o diminuito 0,2 non è una discussione ripeto appassionante il vero tema è che oggi siamo ai livelli più o meno di produzione industriale mi confermanno l'Union Camera del 2007 quindi avremmo fatto più 0,8 abbiamo perso il 15 quindi bene o male siamo tornati avevamo fatto qualche settimana fa un'indagine che ci diceva che sì per carità più 0, però questo ci porta più o meno ai dati del 2007 2008 a seconda che stiamo parlando di ordinativi industriali piuttosto che di PIL l'occupazione resta i minimi storici questi dati Union Camere pubblicati a Camera di Commerci Padova qualche settimana fa minimo storico toccato a Padova attenzione quindi non è vero quello che dice il governo che l'occupazione è cresciuta non riparte in un territorio di piccole e micro imprese prevalentemente perché i piccoli e micro imprenditori hanno anche licenziato molto meno mentre i dati sull'economia sulla produzione sono crollati perché oggettivamente se non ho staccato fattura il dato non me lo posso inventare i dati sull'occupazione arrivano anche dal fatto che la piccola e media industria ha fatto da ammortizzatore economico ammortizzatore sociale si è fatta carico sulle sue spalle bruciando molto spesso volentieri il patrimonio dell'azienda ma per non licenziare perché in un'azienda di 3, 4, 5, 10 dipendenti lasciare a casa una persona non hanno dato premi per questo cosa? non hanno avuto premi per questo non hanno avuto premi per questo però detto questo ora starà a discutere se viviamo in un momento dove la produzione industriale è una specie di treno che rallenta e accelera secondo dei cicli economici secondo me è un approccio sbagliato perché parliamo prima di tutto di società e la società che c'era nel 2005 è molto diversa da quella che c'è oggi piaccia o non piaccia dire non sarà più come prima così come dire una volta il credito funzionale in un certo modo ripartirà è un approccio sbagliato proprio il metodo che è sbagliato non arriveremo mai a una risposta potremmo parlarne per ore per giorni per mesi ma l'approccio che è sbagliato oggi le regole sono cambiate ma è diverso impariamo queste regole giochiamo queste regole o discutiamo ma dieci anni fa ai giovani veniva data la possibilità di fare una famiglia oggi non c'è la possibilità di fare una famiglia se non fai una famiglia non c'è investimento non c'è investimento sulle case non c'è investimento su quello che può essere l'indotto e quindi cosa propone e quindi cosa propone rispetto a questo ci dica facciamo un po' proposte concrete perché dire se stava meglio parliamo di un ragionamento diverso discutivamo prima anche delle pensioni allora proviamo a fare un ragionamento tutte le somme di denaro che oggi vengono in qualche modo concesse a soggetti vendiamo un popolo ad esempio ma non perché ce l'abbia col popolo assolutamente Romania allora c'è una persona lavora qui cosa fa quando raggiungi i minimi pensionabili di quelle persone secondo lei se ne va nel suo paese torna nel suo paese perché viene i contributi vengono trasferiti nel paese le somme che percepisce vengono rinvestite in Italia no ok nel momento stesso in cui no no penso sia verità non mi sembra di dire una cosa che sia abbastanza inconfruttabile quindi molti trasferimenti di denaro se ne va via mercato cinese ok il mercato cinese opera moltissimo in Italia ha usato una tecnica cinese ok dove viene prima ovviamente per il loro principio la nazione rispetto al resto ha trasferito le somme di denaro in Italia le ha investite all'inizio con prezzi medio bassi poi ha alzato fino ad arrivare quello che prevedeva il mercato quanta gente è stata assunta di ragazzi italiani in ambito cinese quanto viene rinvestito dei cinesi all'interno dell'Italia ok o quanto viene trasferito giustamente faccio queste domande io non ho mai visto uno un imprenditore ma bontà loro ha la capacità probabilmente venire a chiedere delle garanzie per operare col sistema bancario quindi io devo chiedere anche se queste somme di denaro hanno dei canali privilegiati che arrivano direttamente al loro paese o hanno delle banche privilegiate che hanno deciso di investire sulla Cina pur ricevendo soldi dalla Banca Centrale rispetto alle aziende italiane cioè il discorso non è solo scusamente cosa facciamo ma lei scusi ma lei quindi pone l'accento sulla questione della legalità in questo caso o su regole io pongo un accento generalizzato io so che un imprenditore italiano una volta che viene beccato hanno trovato uno che non ha fatto uno scontrino di 10 centesimi e rischia di chiudere ok giusto ha sbagliato deve pagare 10 centesimi è giusto che paga 10 centesimi un miliardo è la stessa cosa però ci sono delle regole che va rispettate se ad esempio e parlo di Camera di Commercio perché anche Presidente Zilio quando si è presentato anche al centro Ingros quando sono andati tutte le varie forze di polizia hanno riscontrato il più il massimo possibile però mi sembra si lavori ancora mentre l'imprenditore se sgara una volta quindi è una concorrenza sleale secondo me certo che è una concorrenza sleale perché bisogna verificare tutto dalla A alla Z perché se io in un mercato italiano mi trovo ad avere un sistema ad esempio sanitario nostro che fa fronte giustamente a tutto quello che succede ok è chiaro che non può avere risorse poi per trasferirle in altri campi o aiutare le imprese abbiamo le Camere di Commercio e qua bisogna dirlo che si parla tanto di imprese ma non fanno una distinzione di imprese quando è ora di distribuire i contributi ad esempio anche gli enti consortili fanno una scelta mirata decidono contro le stesse indicazioni che vengono date da Unione Camere ok e viene date anche nella legge di stabilità di trasferire quelle somme di denaro ad organismi cosiddetti vigilati da Banca d'Italia che è lo stesso cioè 107 famose garanzie in prima chiamata rispetto alla garanzia sussidiaria nostra che è comunque governata perché c'è una disposizione di Banca d'Italia uscita in questi giorni regolamentata dall'articolo 112 del testo unico bancario che è precisa quindi voglio dire facciamoci un'analisi internamente perché qui ragazzi parliamo anche di lobby guardiamoci nel paio degli occhi cioè è inutile che discutiamo tanto noi vorrei che adesso a questa obiezione che ha fatto rispondere con Zato però anche da dire la sua perché la Cina è stata chiamata in causa e poi naturalmente passiamo anche a Donofo che so che tra un po' dovrà anche andare via prima pubblicità velocissimi a Donofo a Donofo a Donofo a Donofo